Incidente nella serata di venerdì 26 febbraio a Rovigo, alla rotatore del centro commerciale Fattoria poco prima dell'uscita per la direzione Pontecchio-Borsea. Un ciclista, secondo le prime ricostruzioni, è stato investito da un'auto che lo ha caricato sul parabrezza. È rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un cittadino malese. Sul posto è immediatamente intervenuta, oltre al personale del SUEM per i soccorsi, la polizia locale in forze. Si è infatti trovata di fronte ad un compito non facile, eseguire i rilievi e nel contempo gestire la viabilità all'ora di punta. Grazie alla professionalità dei nostri vigili urbani, i disagi sono stati comunque contenuti per tutta la durata delle operazioni. Da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, presto per parlare di eventuali responsabilità e per avere certezze. Quel che maggiormente importa è che il ciclista non sia in gravi condizioni. Il ciclista è stato infatti caricato a bordo dell'ambulanza e portato in ospedale per gli accertamenti del caso, ma non risulterebbe in gravi condizioni. Si tratterebbe di un giovane richiedente asilo.